ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi facciamo un video super mega veloce parliamo di cuffie parliamo di cloni con delle nuove airpods uscite qualche mese fa ed eccole qui sono delle cuffie che ho voluto acquistare per curiosità mi ha stuzzicato molto la curiosità perché ho letto delle caratteristiche bluetooth 5.0 la ricarica wireless la ricarica capo tramite lightning ma soprattutto un from factor pari 1 a 1 dalle originali e visto che le originali sono cuffie che sto prendendo in serie considerazione che vorrei acquistare come cuffie principali adesso devo decidere se prendere quelle o prendere quelle della google quindi le buzz di google avendo adesso comunque un pixel però devo dire che il from factor è fantastico ragazzi sono di una comodità pazzesca una volta che le indossate ve ne dimenticate subito super mega leggere comode quindi nulla da dire parlando di queste però cuffie questi cloni ragazzi sono prodotti che lasciano il tempo che trovano costano molto poco qua sotto vi lascio il link e hanno appunto quelle caratteristiche come un bluetooth che comunque è stabile quindi se le acquistate potete comunque usufruire delle cuffie senza avere problemi che ogni tempo si disconnettono dal dispositivo quindi sotto quel profilo funzionano bene l'audio è molto alto hanno un volume altissimo la qualità dell'audio è sufficiente è una qualità dell'audio pari a cuffie da quella faccia di prezzo quindi non vi dovete aspettare nulla loro hanno tutte le varie gesture per bloccare la chiamata oppure passare da una traccia all'altra quindi hanno tutte quelle gesture lì hanno anche un sensore di prossimità quindi sono diciamo copiate bene ecco e cosa importante hanno addirittura il pop up se avete un iphone per il collegamento di queste cuffie con l'iphone ed è immediato cioè io ragazzi l'ho provato con l'iphone della mia ragazza ho aperto il case lui l'ha riconosciuta immediatamente con tutta la grafica apple e loro si sono connesse super super comode sotto quel profilo parlando di autonomia hanno un'autonomia abbastanza scarsa diciamo che a cuffia utilizzo intenso durano 4 ore il case ricarica due volte scarse perché poi bisogna sempre ricaricarlo quindi la ricarica non è proprio il loro forte però a livello estetico fanno la loro figura se volete acquistarle proprio per curiosità per il prezzo a cui vengono vendute secondo me sono buone e lato proprio design mi piacciono mi piacciono molto diciamo che le clone non sono cuffie che a me fanno impazzire perché i cloni hanno sempre problemi soprattutto bisogna vedere quanto durano nel tempo io loro le sto provando ormai da tre settimane più o meno due settimane tre settimane e non hanno mai avuto problemi ripeto non mi fa impazzire il fatto che ogni due giorni devo caricare il case ma questo ci sta e poi non vado a cercare di certo comunque la qualità audio su cuffie del genere questo è più una curiosità che ho voluto provare io molto comodo molto comode comunque queste mi sono piaciute i microfoni sono due ripeto qualità anche in chiamata e anche quando vedete film non è nulla di che non hanno nulla anche per la latenza quindi ci sono dei film io ho guardato delle roba anche su netflix e anche su disney plus c'è un minimo di ritardo quindi non sono neanche molto consigliate sotto quel profilo se ascoltate musica così tanto per avete 18 paia di cuffie volete ogni giorno provare queste più che altro per l'estetica si possono andare abbastanza bene ripeto aiuta molto il fatto che il volume è molto alto questo mi ha aiutato in macchina tipo quando mettevo il navigatore le informazioni che venivano date dalle delle cuffie erano comode non hanno il richiamo di siri quindi sotto quel profilo non c'è nulla per il richiamo di siri però tant'è io ragazzi vi volevo portare questo video queste sono le cuffie vi faccio vi ho fatto vedere anche in un video che è passato mentre che parlavo tutta la loro bellezza e rimango stupito per come riescono a fare dei lavori del genere sti cinesi perché veramente ragazzi sono una coppia una a uno cosa importante che tengo a sottolineare occhio perché ci sono molte truffe online soprattutto quando si vanno a acquistare su quei siti dove si possono andare a scambiare di persona i prodotti qua da noi ci sono molti furboni noi italiani ci facciamo sempre riconoscere dove vendono queste cuffie spacciandole per le originali molto difficile a capire se sono originali o meno visto che loro una volta che si aprono esce anche il pop up con iphone quindi bisogna fare molta attenzione un trucco che vi posso consigliare quando andate a prendere queste cuffie usate o da persone terze controllate all'interno del case l'originale hanno sempre la dicitura stampata qua dentro i cloni invece come vedete non hanno nulla quindi mi raccomando fate molta molta attenzione se acquistate queste cuffie non da dei siti quindi sapete cosa state acquistando perché sul sito c'è scritto che sono clone soprattutto costano 20 euro 30 euro ma occhio acquistarle invece da quei siti che si vanno a scambiare tipo a mano quindi si può incontrare la persona che vi vende il prodotto e ve lo fa pagare praticamente come l'originale poi però scoprite che hanno una qualità nettamente inferiore perché non sono l'originale quindi occhio niente per questo video è tutto arriverà la recensione del pixel 6 pro che è il telefono con il quale ho registrato questo video lo sto testando da un bel po' devo ancora capire se è scattata la scintilla o meno vi dico subito piccolo spoiler che sì mi sta piacendo e no non ha tutti quei mega bug che hanno detto tutti quanti all'inizio è stato molto 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 sistemato e aspettiamo anche l'ultimo aggiornamento che dovrebbe arrivare a fine di questo mese dovrebbe migliorare ancora tutto quanto l'ecosistema vediamo vediamo comunque noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale qua sotto vi lascio tutto il link mi raccomando seguitevi su instagram e nulla ragazzi vado a non ascoltare la musica con queste clone però penso proprio di prendere le originali perché il from factor ragazzi è di una comodità devastante tanta roba tanta tanta roba ciao da fabio e da bergtech ecco Grazie.